Tutti dall'X65, un altro piccolo video leggero, in un momento in cui si pensa a cose molto più importanti, in un momento in cui lo sport è fermo giustamente, Cristiano Ronaldo versus Messi. Cristiano Ronaldo contro Messi. Chi è il più forte? E' come quando chi legge fumetti si chiedeva se era più forte Hulk o la cosa, o se Thor fosse il più forte di tutti. Bartaliu Coppi, negli anni 50-60, negli anni 50. Rivero Mazzola. Ma veniamo ad oggi. Ronaldo o Messi? Innanzitutto, ovviamente, da Juventino cercherò di essere il più neutro possibile, per quanto alla fine sia difficile essere veramente, veramente obiettivi. Ovviamente, da quando è arrivato in Italia, si si è sprecati dicendo che questo Ronaldo non è Ronaldo di prima, Ronaldo è più scasso di Messi, perché ovviamente in Italia vige una legge che si chiama invidia, quindi Ronaldo deve essere per forza meno forte, più scarso, perché gioca con la maglia di una squadra che è tifata da metà italiani, ma è odiata dall'altra metà, quindi non gli si vuole riconoscere il giusto merito a questo giocatore. Fantastico, come altrettanto fantastico è Messi. Come altrettanto fantastico è Messi. Allora, ad un'analisi prettamente calcistica, sono due calciatori, due atleti completamente diversi. Tanto è funambolico Messi, con i suoi dribbling imprendibili, un piccoletto di poco più di un metro e sessanta, ma con una forza di resistere ai contrasti notevolissima, tanto è diverso Ronaldo con i suoi oltre, con il suo quasi metro e novanta, tra il metro e ottanta e il metro e novanta, un fisico da modello completamente costruito col sacrificio e col lavoro continuo. Quindi, un calciatore come Messi, diciamo, con un fisico che lo penalizza, ma completamente e assolutamente naturale, contro un fenomeno cyborg, come Ronaldo. Questo non vuol dire che Ronaldo è costruito in laboratorio, ma dietro la bravura di Ronaldo c'è molto più lavoro, c'è molta più abbenegazione di quella di Messi. Diciamo che Messi è nato con delle doti naturali che pochi sul globo terrestre hanno. Ricordiamo Pelé, Maradona. Quindi già dotato da madre natura del poter fare qualsiasi cosa con la palla. Cristiano Ronaldo invece è un campione che si è aveva grandissime doti ma che si è anche dovuto anche dovuto col sacrificio aggiungere tanto a quello che mancava per diventare uno dei due giocatori più forti del mondo in questo momento. quindi io dal mio punto di vista apprezzo di più uno che è arrivato lì perché si è spaccato il culo che non uno che è nato già con quelle doti però non è una colpa nascere fuori classe predestinato come Messi. la loro carriera si è sviluppata in maniera completamente diversa e questo è uno dei motivi per cui mi fa preferire Ronaldo a Messi. Innanzitutto valanghe di gol per tutti e due valanghe di gol valanghe di coppe dei campioni valanghe di palloni d'oro anche se da quando Ronaldo ha cambiato casacca probabilmente viene visto con un occhio diverso dalla critica perché si sa la maglia del Real Madrid ha un peso la maglia della Juventus un altro a livello politico sappiamo come funziona e sappiamo quali sono le regole che dettano i premi per cui è assurdo che un campione come Iniesta non abbia mai ricevuto un pallone d'oro o un campione come Pirlo o un campione come Baresi, Maldini, Scirea e del Piero e quindi è o Totti e quindi è una cosa assurda visto che il premio è stato dato a gente che ha lasciato molto meno il segno di quanto lo hanno lasciato questi campioni che ho appena detto basta ricordare Bielanov Sammer ma anche Pappen ma comunque al di là dei premi al di là di tantissimi gol fatti da uno dall'altro cosa li differenzia cosa differenzia questi due campioni innanzitutto parliamo di Messi Messi e la sua nazionale argentina innanzitutto dobbiamo dire una cosa è l'Argentina una squadra da sempre molto più forte di quanto sia forte il Portogallo Portogallo è una squadra che non ha mai vinto niente l'Argentina è una squadra che ha vinto Coppe America una squadra che ha sempre avuto grandissimi giocatori e soprattutto ha vinto Mondiali quindi una persona si sarebbe aspettato che Messi avesse lasciato un segno nella sua nazionale dove per segno si intende vittorie mentre questo non è successo anzi in patria in patria è rimproverato per questo cioè è sentito poco argentino per loro il vero 10 è Maradona che ha vinto un mondiale da solo e che ne ha sfiorato quasi un altro quando già era in età avanzata pur avendo vinto meno titoli personali anche perché ha giocato in squadre di di tutt'altro livello Cristiano Ronaldo invece in Portogallo è universalmente riconosciuto per essere il numero uno e è riuscito a vincere anche con il Portogallo un europeo dove il Portogallo non ha mai vinto nulla a livello di club Messi ha conosciuto una sola maglia quella del Barcellona la squadra che l'ha cresciuto da quando era bambino aiutandolo a livello fisico perché aveva dei problemi e quindi Messi tutto quello che ha vinto è stato in funzione di un solo club un club che negli anni in cui ha vinto oltre a oltre ad avere in squadra lui che era il fenomeno numero uno aveva il meglio che la Spagna poteva offrire in quegli anni non è casuale il fatto che la Spagna diventi campione del mondo e campione d'Europa per due volte consecutive la Spagna fino a quel momento non aveva mai vinto nulla non aveva neanche disputato una finale di un mondiale aveva vinto un europeo un europeo nel 64 di lì aveva fatto praticamente nulla deludendo la gran parte delle volte anche quando aveva squadre che erano abbastanza accreditate quindi avere Xavi Iniesta e compagnia in squadra nel Barcellona diciamo che lo ha aiutato Messi anche a vincere Cristiano Ronaldo non ha avuto questo vantaggio Cristiano Ronaldo uscito fuori dal Portogallo praticamente diciottenne è dovuto subito andare a confrontarsi con campionati stranieri il campionato inglese lasciando perdere la differenza di gioco tra la Premier League e il campionato portoghese si è subito imposto in Inghilterra in una squadra di primo livello come il Manchester United ha vinto pallone d'oro e la Coppa Campioni e la Champions League con il Manchester United di lì poi ha cambiato ancora casacca andando nel club prestigioso del mondo che è il Real Madrid e dove altri campioni arrivati lo stesso anno come Kakà hanno fallito lui si è imposto vincendo un sacco di Champions League e di altri trofei quindi sostanzialmente abbiamo un campione che è rimasto sempre nella stessa squadra che era anche all'apice del suo momento migliore contro un Ronaldo che è andato in un Manchester United che non era diciamo il Barcellona e in un Real Madrid che era tanto tempo che non vinceva la Champions League e non non contava nella sua rosa tutti i fenomeni che aveva il Barcellona e infatti per i primi tempi ha fatto fatica continuando sempre a fare la differenza quindi sostanzialmente un campione che ha giocato che ha brillato in un'unica squadra poco in nazionale pochissimo in nazionale nei vari mondiali che ha discutato non ha mai fatto la differenza avendo fatto Messi anche una finale di un mondiale in cui avrebbe dovuto prendere le redini in mano della sua squadra cosa che non è stata quindi un un campione che ha non si è visto alle prese con il campionato italiano tipo Ronaldo quando è venuto alla Juventus perché Ronaldo ha fatto la differenza anche nella Juventus ma ha giocato soltanto in una squadra quindi si può giudicare un campione più forte di un altro quando l'altro è comunque riuscito ad imporsi ovunque secondo me no se poi guardiamo i gol guardiamo le punizioni può giudicare un campione diciamo sul fatto dell'essere stato in una sola squadra o si può ritenere superiore un altro campione che invece si è scimentato con quasi tutti i campionati europei risultando sempre il migliore a mio giudizio Ronaldo è superiore a Messi Ronaldo è superiore a Messi Ronaldo non è ha sempre accettato le sfide perché cambiare campionato cambiare la squadra con cui ti senti coccolato con cui ti trovi bene non è semplice non è semplice cambiare lavoro e andare in un'altra in un'altra azienda imporsi anche per uno di un qualsiasi settore lavorativo quindi questo gli deve essere riconosciuto sostanzialmente Messi è il Barcellona è il fuoriclasse del Barcellona Ronaldo è il fuoriclasse del Portogallo il fuoriclasse del Manchester United e ereditare la sette che è stata portata da grandissimi campioni al Manchester United all'inizio non era una cosa semplice il fuoriclasse del Real Madrid è il fuoriclasse della Juventus forse non brilla sembra non brillare abbastanza nella Juventus perché gli interpreti che ha intorno non sono a livello di quelli di Messi quando giocava nel miglior Barcellona o di Ronaldo quando era nel miglior Real Madrid ma il Real Madrid senza Ronaldo ne risente ovviamente ne risentirebbe anche il Barcellona senza Messi ma bisogna vedere se Messi portato via dal suo campionato farebbe le stesse cose in Italia io ne dubito o in Inghilterra perché in quella squadra lo conoscono sanno dove è sanno come servirlo sanno come coccolarlo quindi nonostante sia Juventino e posso sembrare di parte per me Ronaldo vince alla grande e non solo di poco poi vedremo se questa stagione determinerà ancora un qualche punto di differenza tra i due fuoriclasse se di Messi mi restano le grandissime partenze che ricordano i dribbling di Maradona di Cristiano e Ronaldo mi restano dei gesti da cyborg tipo la rovesciata con cui segnò a Torino elevazioni di testa che sono fuori da portata degli esseri umani quindi due grandissimi campioni che resteranno nella leggenda del calcio ma io ritengo superiore Cristiano Ronaldo un saluto dagli Ux65 5 5 5 5 5 6 5